Comincerà domani, 31 agosto, con un concerto di Lalla Esposito e Massimo Masiello, la festa dei Gighi di Barra, presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo. La festa andrà avanti per tutto il mese di settembre con un intenso calendario che culminerà domenica 29 nella popolare ballata dei Gighi, quando le paranze sfileranno lungo le strade del quartiere. Con le associazioni quest'anno si è concordato un unico programma di eventi e di manifestazioni che permettano a questo evento di far sì che durante il mese di settembre ci siano molti più eventi rispetto a quelli degli anni scorsi. La cosa importante è che l'anno scorso per il primo anno, dopo 200 anni di storia, il Comune partecipa all'organizzazione di questa festa. Io avevo 15 anni, ho cominciato a crearmi la mia paranza, diciamo. Qualcuno non festeggia il Natale e Pasqua come festeggiano il Settembre Barrese. Vengono persone che non, veramente, ve lo dico e non dico cose che non ho sentito. Persone che vengono da Nattitalia, stanno emigrati fuori, vengono a Settembre e non vengono a Natale. Se immaginiamo che nella edizione dell'anno scorso abbiamo avuto la presenza di quasi 200.000 persone, coordinare le macchine da festa, coordinare le associazioni, io parlo nello specifico della giornata clou, della giornata della ballata, è un lavoro abbastanza complesso. Pesanti decine di quintali, i gigli sono in palcature di legno che vengono portate a spalla dai cullatori o paranzari. Sulle loro spalle col tempo si forma un caratteristico callo, segno di esperienza e di attaccamento alla festa. Lo vuoi vedere? Ecco, è uno. Questo qua è un dono, è un dono che ti porta a essere sempre più forte come gigliante. La festa nasce a Nola, arriva a Barra, però chiaramente il giglio portato in un contesto culturale differente assume le caratteristiche del territorio e della comunità. La festa del giglio di Barra è molto vicina alla città di Napoli. Noi siamo estrema periferia, però portiamo con noi il bagaglio culturale della metropoli. Questa estate siamo stati riconosciuti dalla regione Campania come patrimonio immateriale culturale. L'organizzazione che riguarda questa festa parte un anno prima. Durante i mesi poi si sviluppano iniziative di carattere culturale, di carattere musicale, fino ad arrivare a settembre. Settembre poi è il club praticamente perché inizia proprio la parte tecnica con la costruzione di questi obelischi, con il loro rivestimento e attorno ad essi poi c'è tutta l'organizzazione delle varie iniziative. Ogni paranza esibisce tecnica e forza attraverso le figurazioni impresse al proprio giglio. Le paranze rappresentano i diversi rioni del quartiere di Barra. La paranza è composta da 250-300 persone. Vanno sotto a giglio fisso 128 persone a posizionamento. Va bene, tra varre e varriello. Sono le varre, sono otto varre di faccia che vanno davanti e il retro. Nei laterali, destra e sinistra, sono i varrielli che sono movibili, si smontano. Devi tenere quell'oscillazione di 3-4 cm in più alla posizione delle varre, in obbligo, in orizzontale. E là devi metterti a girare per dare la tua capacità di tecnica al tuo giglio. Il programma della festa nasce dalla collaborazione fra istituzioni e associazioni del territorio. La festa dei gigli è un'occasione importantissima non solo per omaggiare le tradizioni e la storia, ma proprio per valorizzare il tessuto sociale. Un momento importante di coesione e di inclusione che rafforza il senso di appartenenza e di radici. La festa è rimasta bloccata durante il Covid, ha ripreso lo scorso anno. In quell'occasione il sindaco Manfredi annunciò la volontà dell'amministrazione di formare una fondazione per i gigli di barra che, lo ricordiamo, sono patrimonio immateriale e culturale della nostra regione. Credo che il budget di quest'anno si aggiri intorno ai 150.000 euro per la festa di settembre. Per l'investimento invece iniziale sulla costituzione della fondazione il Comune ha investito 30.000 euro. Per noi la festa dei gigli diventa anche un pezzo di quella operazione che facciamo attraverso la promozione delle feste patronali in tutta la nostra città, un pezzo di quella operazione per dare una veste istituzionale, per ridare un sostegno a queste feste identitarie della nostra città, tradizioni molto radicate e la dimostrazione che sia così l'abbiamo per il fatto che da un paio d'anni organizziamo queste feste che diventano anche sempre più numerose e abbiamo una presenza di napoletani, soprattutto ovviamente, ma anche di tanti turisti attratti da questo tipo di napoletanità, sempre crescente. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.